tranquilli ragazzi non avete sbagliato canale e io non ho cambiato sigla se avete visto un intro differente dal solito è perché con questo breve video voi annunciarvi la nascita di un nuovo progetto un progetto creato con altri canali youtube canali di amici che a breve vi presenterò che porterà nuovi contenuti in collaborazione con questi ragazzi e tanta informazioni in più su quello che il mondo del collezionismo a 360 gradi dal videogioco al giocattolo al fumetto sia nuovo che vintage il progetto si chiamerà bavardones il nome della nostra squadra del nostro team che in senso molto lato significa i chiacchieroni infatti faremo questo non faremo altro che fare due chiacchiere su quelle che sono le nostre passioni e il mondo del collezionismo in generale cercando di portare collezioni ultimi acquisti novità informazioni insomma chi più ne ha più ne metta su quello che il mondo che più ci piace il mondo del collezionismo ma chi farà parte di questa squadra per cominciare l'immancabile stefano del nest del seba ormai non ha bisogno di presentazioni grande amico del canale molti di voi iscritti già lo conoscono abbiamo fatto diversi contenuti insieme anche una live quella in occasione del primo anno stefano è un grande conoscitore amante e collezionista di videogiochi in modo particolare amante del nintendo e del ness poi ci sarà dave balbo toys del canale balbo toys un'enciclopedia vivente del giocattolo vintage nuovo qualsiasi cosa voi chiediate lui la saprà è un grandissimo anche toy hunter vi porterà in giro per i mercatini vi farà scoprire tantissime nuove cose vi darà tantissime informazioni su quello che il mondo del collezionismo del giocattolo rick del canale rick never ending toys il più grande e conoscitore di masters of the universe che io conosca è un grandissimo collezionista di moto e non solo e per finire almeno per il momento blade del canale blade 2 un grandissimo appassionato di fumetti sorpresine di qualsiasi tipo dalla kinder al mcdonald's prodotti dedicola e collezionismo a 360 gradi quindi ragazzi per quanto riguarda questo canale non cambierà assolutamente niente se non che sarò ospite molto spesso nei canali di questi ragazzi e viceversa quindi ci saranno magari dei video in collaborazione oppure degli spezzoni registrati dai ragazzi all'interno dei miei video o registrati da me all'interno dei loro video quindi vi invito ragazzi ovviamente a seguire tutto il team tutta la squadra di cui troverete i link ai canali qui sotto in descrizione e faremo ovviamente anche delle live delle live che per il momento abbiamo programmato per una al mese quindi una cosa molto tranquilla molto blanda per iniziare e parleremo un po di tutto di novità ci sarà la sezione vintage faremo vedere le nostre collezioni faremo vedere i nostri magari ultimi acquisti gli acquisti fatti nel mese insomma ci saranno tante belle cosine tanti anche unboxing tante informazioni e potremo parlare veramente di tutto e ovviamente ragazzi ormai mi conoscete e lo sapete dove ci sono io non può mancare il buon vecchio cazzeggio state tranquilli che ci sarà ci si divertirà nelle live vi daremo tante informazioni si vedranno tante cose belle ma ci sarà modo anche di cazzeggiare di stare in amicizia in serenità per quell'oretta e mezza o due che dovranno le live quindi ragazzi da oggi è ufficialmente aperto il progetto barardones fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate vi faremo sapere nel più breve tempo possibile quando sarà la prima live ufficiale della squadra ricordatevi ancora una volta che in descrizione trovate i link ai canali di tutti i membri quindi intanto se volete iscrivetevi iscrivetevi anche al mio se siete nuovi e non ci resta che vederci a un prossimo appuntamento del canale ragazzi ciao ragazzi a presto